Hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Santimotio di Termoli ieri sera i due quarantenni di petacciato che sono stati affiancati da un'auto civetta della polizia di Vasto che ha aperto il fuoco sparando diversi colpi all'indirizzo della loro auto, dopo il fatto erano completamente sotto shock. La loro Audi A4 è stata scambiata per quella che un'oretta prima si era allontanata dal centro commerciale insieme di San Salvo, dove alcuni malviventi a volto coperto e con pistole spranghe alla mano avevano fatto irruzione all'interno della gioielleria Sarni portandosi via diversi preziosi. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i carabinieri del comando di Vasto insieme alla Digos dello stesso centro che hanno avviato le indagini del caso. Le ricerche sono state stese anche in Molise sulla strada che da petacciato porta a Montenero di Bisaccia. La polizia ha intercettato un Audi simile a quella della rapina. La tragedia si è sfiorata qui poco prima dell'evento. Ieri sera a petacciato tra Via Maggiore e Via Mar Mediterraneo. I due ragazzi di petacciato, due quarantenni del posto che abitano anche in zona, erano in macchina e procedevano verso Montenero di Bisaccia. Avevano svoltato a destra per andare verso Montenero di Bisaccia. Quando è saltata fuori una Fiat Punto di colore verde era una macchina della Digos del commissariato di Vasto. Dai primi riscontri l'auto della polizia avrebbe affiancato l'Audi. Il poliziotto in borghese che si trovava al fianco del lato guida avrebbe estratto la pistola, forse è stato intimato l'alt, ma i due quarantenni di petacciato avevano la radio accesa. Si sono spaventati pensando ad un tentativo di furto dell'auto. Il conducente ha fatto marcia indietro cercando la fuga. A quel punto però è stato aperto il fuoco. Alcuni colpi hanno colpito le gomme dell'Audi. Uno però avrebbe raggiunto distruggendole il finestrino del lato passeggero dell'auto. A quel punto i due giovani si sono fermati e sono stati immobilizzati. I colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti in tutto il circondario. Tanta gente è scesa in strada. Sentiamo una testimonianza di un residente del posto. Era verso le otto circa. Stavamo guardando la televisione con mia moglie. Dopodiché abbiamo sentito dei colpi. Ma noi e mia moglie convinto che erano questi ragazzi che sparano i botticini di Natale. E poi ci siamo messi dentro. Dopodiché un po'. Mia moglie aveva la finestra aperta. Noi la certa ora richiudiamo e abbassiamo. Come stavamo abbassando la Tapparello? Abbiamo visto i lampeggianti, un casino. Io sono andato addirittura sopra il balcone di Palumbi e ho visto. Ma non l'ho riconosciuto né Marche né questi due ragazzi. E poi abbiamo visto tutto quel casino. Però non ci hanno fatto entrare là vicino. Quindi non ci hanno potuto entrare. Abbiamo potuto vedere. Però abbiamo visto tutto questo casino. E' una cosa incredibile. E abbiamo visto. Poi addirittura dice che era Marco. Ma io non l'ho riconosciuto. O forse per la paura. Perché lui stava chiamando la mamma o il papà. Non mi ricordo che ha detto. E stava chiamando. E poi hanno chiamato l'avvocato. Non c'era un'altra Grazie a tutti